Come animo e sentire se libera che sono capace di seguire così questa luce eterna senza final con la nostra voce siamo un ejército di paz sentimenti puri di una buona unione un anno basato nella passione per la liberazione oggi ma che ayer il querer è poter e sentire